buonasera buonasera benvenuti ad una nuova review di smackdown ciao luca benvenuto buonasera ciao edy ciao mickey ciao edy benvenuto ciao buonasera a tutti tutto bene posto tutta bene bene e io faccio ormai la domanda di rito che è un must di ogni puntata come vi è sembrata questo episodio di smackdown un po nell'insieme prima di andare nel dettaglio partiamo con luca andiamo in ordine sì ma discreta puntata dai probabilmente le due ore come sempre ti danno più te la fanno scorrere di più quindi è piacevole rispetto a un raw con tanto contorno inutile anche quindi meglio dell'ultima puntata di rò sì ma probabilmente io ultimamente sto preferendo smackdown quindi probabilmente di tante puntate di rò edy come come ti è sembrata no mi è sembrata una buona puntata ci sono stati insomma alcuni spunti di cui si si può parlare anche altre cose che magari mi hanno lasciato meno convinto però si dai nel complesso una buona puntata direi bene bene prima di partire salutiamo il nostro avventura ciao buonasera buonasera e anche ale che non poco non lo vedo qua buonasera buonasera ciao mago adesso adesso ci arriviamo sarà un fara logan full aggiungere bene bene e direi di partire e la puntata è iniziata con un mega match che è annunciato la settimana scorsa e c'è un atto un assaggio anche a o è un match tra gli usos e new day valido per i titoli di coppia disperute quindi entrambi mesi che è andato come mi aspettavo e è venuto molto bene però perché alla fine loro si si trovano c'erano fatto vedere tante volte sono riusciti a mettere in piedi in una ventina di minuti forse anche di più una prestazione decisamente valida luca come come ti è sembrato t'aspettare questo risultato si è un bel risultato me lo aspettavo sì perché ormai mi sembra di capire che finalmente anche il new day lo stanno un po mettendo da parte in secondo piano lo usano un po per mandare mandare over gli altri team però questa volta era sensato perché gli usos dovevano superare il record del new day quindi va benissimo il mezzo è stato secondo me a parte il migliore della serata ma non che non ci voglia tanto erano quattro match però comunque uno dei migliori secondo me match tag team dell'anno fino adesso secondo me perché loro a parte che l'abbiamo già visti in tutte le salse e quello all'inizio un po stonava quindi magari non c'era la voglia di vederli proprio come come magari poteva esserci tempo fa però hanno sempre loro hanno sempre un'ottima chimica sono comunque tutti e quattro dei buoni atleti performer quindi non avevo dubbi della buona riuscita di questo match anzi un po mi hanno sorpreso perché pensavo mi potessero anche stufare avendoli visto tante volte come ho detto prima invece secondo me ottimo match ottimo match di coppia soprattutto e vittoria giusta e continua questo regno magari che ormai ha fatto anche il suo tempo ma ci sarà tempo comunque per costruire i suoi avversari i loro avversari si anche al che aveva poco senso secondo me togliergli il titolo arrivati a un passo dal record esatto era giusto ormai darglielo e poi cambiare magari più avanti eddy cosa cosa ci dici di questo match no il match sicuramente è stato molto molto bello non mi ha sorpreso perché comunque entrambi questi team no quando sono affrontati ormai tante volte perché penso che da 2017 che si affrontano costantemente tutti gli anni numerose volte all'anno quindi ormai hanno anche quella chimica tra di loro secondo me per cui riescono a creare appunto degli ottimi match gli spot sempre riusciti chiaramente vabbè non mi aspettavo altro che la vittoria degli usos perché ovviamente erano arrivati ormai a 23 giorni dal battere il record del new day quindi avrebbe avuto poco senso farli perdere i titoli così anche in vista di dei wargames insomma per lasciare la bloodline dominante era giusto che mantenessero i titoli e quindi così insomma è stato un bel match quando salutiamo fabri ciao fabri oggi va male per lui oggi ma manca qualcuno e sì vi aspettavate l'arrivo in qualche modo di semi zain o ma io onestamente sì e anzi dopo uscita la notizia oggi mi sembra che ha problemi personali ma comunque mi stavo chiedendo che fine avesse fatto perché ok in arabia che vabbè lui non ci va però non c'era neanche a ro quindi mi chiedevo cosa che problemi avesse però sì me lo aspettavo ieri ma evidentemente ha dei problemi personali quindi credo tornerà settimana prossima perché è nella world cup lui quindi sì ecco io non avevo letto dei problemi personali quindi questa domanda potete cancellarla non serve perfetto no l'ho letta l'ho letta poco fa anch'io non so se alla fine è un rumor si è infondato o no ma così pare e comunque può servire anche per creare più hype per il suo ritorno perché tutti cantavano we won semi quindi quando tornerà avrà un ulteriore pop no ancora più più elevata è comunque il membro della bloodline più più richiesto quindi sì sì quello che ha riportato un po in vita la bloodline esatto passando oltre gli usos dopo aver vinto sono andati nel backstage da da reins che ha detto dopo essersi congratulato dal fatto questo momento dove sembra dovesse andare contro poi in realtà se ne messo a posto annunciato cara a una questione in sospeso che poi verrà data impasto al pubblico nel più avanti verso la fine della puntata va bene cazzo io l'ho detto tanto per dire qualcosa ma va bene cioè non non c'è la tenere non ha fatto niente di che alla fine in questo senato quindi in realtà romana reins questioni in sospesa in realtà non dovrebbe avermi perché hanno chiuso riava si guarda esatto quindi va bene ma capiamo nelle prossime settimane o sì andando oltre altro match questa puntata è stata mente quasi tutta lottata quindi abbiamo avuto solo quattro match ma tre abbastanza lunghi quindi saremo magari un po più colta anche poi quando ci sono i match non è che c'è moltissimo da dire parte è andato bene è andato male quindi questa sera va così è partita la world cup la world cup che da una shot titolata poi al titolo intercontinentale hanno annunciato gli otto partecipanti si otto due volesse e il primo match che l'ha già stato annunciato la settimana scorsa anche se non avevano detto in realtà che era del world cup se non li volto male l'hanno detto poi in questa puntata è stato passato sesco bar e schiena camora luca com'è che è sembrato questo io gli avrei dato tre quattro minuti in più di avrei detto bel match probabilmente invece così mi è stato un po mi lascia un po con l'amaro in bocca perché a parte che ha praticamente non dico dominato ma ha prevalso quasi sempre nakamura e santos è andato avanti un po di aiutini dei suoi compagni di stable e dopo ha fatto una buona buona buon finale però non è sembrato tanto non si è imposto tanto santos avrei preferito più che santos si insomma faceva vedere di essere il più forte perché ha più bisogno santos e scobar cioè mai nakamura sappiamo che il suo ruolo è quello un po di giobbare comunque anche lui non mi sembra molto sul pezzo da un pezzo ormai però giusta la vittoria di santos buonasera cliff io lo vedo come uno dei favoriti santos poi il mente è vero c'è stroman e quindi dici come fa a perdere stroman in questo momento però per me un santos e scobar devi puntarci e mi sembra che con lui ci puntino più nel singolo che come stable più che altro lasciano gli altri due insieme a zelina diciamo fare più la parte stable e io spero che trattino bene santos perché è quello su cui comunque ha talento e se non puoi avere a disposizione altri messicani che comunque avevi che secondo me sono leggermente più talentuosi punti su santos e via e più che altro perché lui comunque vada verso i 40 e sì quindi se non ci punti adesso poi diventa difficile poi quindi l'unica cosa che voglio aggiungere è che un po una work up un po strana perché ali l'hanno messo pakistano subito cioè non a caso è lui ha origini pakistane però è sempre stato annunciato come chicago illinois cioè quindi è un po messo lì un po un po perché ne mancava uno ecco però può andar bene anche così sì c'è jinder mal che vabbè sì anche lì l'anno bene parliamo magari dopo ma rispolverato così a caso sì diciamo che hanno voluto fare una cosa internazionale quando non c'erano così tanti lottatori l'unico che potevi mettere dentro però dopo avrebbe un po sfangato un po tutto è homos perché nigeriano sì oppure mansur però mansur un po in una situazione un po secondo me ce ne erano ne erano due che potevi mettere ok sono in stable con gunter potevi buttarci lì dentro lo stesso ci sono davanti a niente sì lui non gli ho loro non li ho nominati perché appunto se quello che vinceva contro gunter era un po suonava un po male si può magari il primo turno uno dei due lo passava e non lo so eddi come come ti è sembrato questo primo match della world cup ma il match come diceva luca è stato un po troppo corto perché anch'io mi aspettavo un match un po più lungo perché ci avrebbero potuto far vedere diciamo cose migliori con un po più di tempo a disposizione e poi sia diciamo ha prevalso sembrava prevalere insomma nakamura poi con con l'aiuto dei delegato comunque escobar è riuscito a portarla a casa e dopo niente sul torneo sì ci sarebbero ci sarebbe stato qualche altro nome da mettere dentro io dall'altra parte del tabellone rispetto stroman avrei veramente messo omos e magari facci no sognare una finale omos stroman per dare anche un secondo match a loro visto che comunque hanno fatto tanto bene in arabia quindi il pubblico vuole assolutamente un rematch quindi peccato che non ecco non c'era omos peccato veramente un peccato e secondo me è stato messo nella parte sbagliata della card questo match cioè messo subito dopo quello che si sapeva essere il match della serata ha tolto un po un po di aiuto potevi mettere quello femminile prima e dopo mettevi questo oppure il match di stroman sì 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 avresti potuto mettere quello degli usos come main event perché era comunque più importante magari questo lo piazzavi come opener certo esatto è messo così come secondo molto avvicinate in realtà al primo perché il mezzo è stato appunto solo quel passaggio di range quindi boh non lo so io avrei dato magari quei tre minuti quattro minuti meno di cui parlavo prima al match di coppia o quello femminile gli avrei dato a questo match perché meritava questo mess sulla carta ed è stato un po così così alla fine buono ma poteva essere molto di più si sono buono perché comunque non hanno sbagliato niente non hanno fatto loro è ovvio che hanno tenuto un po il freno tirato a me piace molto comunque che hanno abbinato adesso ormai da un po di settimane però hanno abbinato zelina vega con loro per me ci sta visivamente dico molto bene sì per quello per quello sì non ero così convinto al suo debut diciamo a me l'unica cosa che fece storcere il naso è che hanno buttato fuori praticamente electra lopez a caso senza senza un valido motivo a prescindere dalle dalla qualità che può portare electra lopez però è stato un po un cambio un po secondo me fatto a molto molto senza senza senso comunque senza dare una motivazione si sono perché hai messo come ci ricorda anche fa poi una che nexto fenomeno poi quindi c'è uno dice ave togli una che non è che non è capace metti una che è molto brava ti cambia la stable così magari zelino può dar qualcosa in più rispetto dell'ex alle ad electra nella parte magari del manager forse lì c'è un po più di carisma personalità su quello magari hanno puntato più su quello rispetto a una parte più tecnica lottato sì sì sicuramente è per più per i suoi doti da manager ecco poi tanto penso che lina lotterà comunque ma poco sì sì penso che lotterà poco quindi il fattore diciamo che non sia magari una wrestler chissà quanto forte inciderà poco perché la vedremo poco secondo sul ring sì 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 per fortuna andando oltre abbiamo avuto un uomo tra brie wyatt e dei knight qui poi guaiata ha chiesto di fare coppia con lui per poi chiudere tutto con una testata in bocca dei knight che serve svegliato senza sapere veramente dov'era ok non so bene come da pensare di sta cosa non ce la vedo bene né come fai da né come coppia quindi non so cosa può fare voi cosa cosa mi dite allora io ti dico è un po caso tutto ciò perché sembra che hanno letto che i fan sono erano un po contrariati che wyatt non facesse niente di lottato ed è come s'hanno messo in piedina fai da veloce no all'ultimo secondo allora c'erano secondo me tre possibilità o facevi appunto una rivalità così per wyatt messa su un po alla velocità della luce o lo facevi andare avanti con la sua narrazione però sarebbe sì sarebbe significato promo e basta magari ti annoi magari probabilmente anche le stesse simili cose ogni settimana fino come fino a ieri praticamente oppure lo mandavi direttamente nella zona minedente per il titolo per me forse questa è la meno peggio ti dico la verità però per per mio mio pensiero però non mi mi dà interesse comunque e questo è il problema perché non vedo come possano andare a legare loro due prima roba e seconda roba non mi interessa vedere un match lottato tra questi due no perché sono due che potrebbero fare una faida al micofono pariente basta sì però anche lì io non vedo come lei night possa inserirsi in una dinamica di wyatt che sta sviluppando adesso quella delle personalità eccetera no vero non c'entra non c'entra niente c'è ok abbiamo due liberi che non hanno faide proviamo a metterli insieme qualche settimana e vediamo cosa salta fuori altri nomi ti dico la verità per fargli fare una faida di transizione a wyatt non li avrei visti forse stroman ma andresti andato a ripetere l'ennesima faida quindi boh una scelta un po che mi lascia un po perplesso dico la verità e vediamo vediamo so che comunque tanti non sono contenti leggendo un po in giro e li capisco sì sì ma quando sì quando prima dicevo che c'erano delle cose diciamo che mi hanno fatto un po storcere il naso c'era questa perché non capisco neanch'io il perché così totalmente a caso adesso wyatt dovesse andare nel backstage a prendersela con con lei night comunque non avevano avuto nessun tipo di interazione precedente poi soprattutto come dicevate voi non vedo come possono insomma unire queste due i due personaggi in una faida che non c'entrano insomma poco uno con l'altro l'unica cosa che wyatt nel promo si c'è in quel segmento backstage gli ha detto anch'io come te no cioè so che tu hai un lato magari un po un po più cattivo che non cerca di venire fuori inizialmente voleva quasi consigliarlo come per aiutarlo dopo quando lei night insomma gli ha risposto un po male dopo lì ha perso la pazienza e lo ha colpito quindi non so magari se inizialmente lo volesse quasi portare dalla sua parte no come se cercasse forse un alleato poi però quando ho avuto la risposta DLA night ecco dopo li ha visto che non non c'erano i presupposti per paralearsi si dopo un flash sul sulla tv con il simbolo di wyatt si è scatenato l'inferno non lo so mi dà l'idea di essere una cosa che la settimana prossima si chiude cioè fanno il match non basta si potrebbe anche essere così perché si poi sulla lunga durata non so veramente cosa potrebbero fare tra di loro quindi si può darsi anche che sia una cosa intanto per arrivare al post survival series tanto fino alle series comunque wyatt non dovrebbe avere grosse faide fai finire il pay per view e poi da lì magari con quelli che si liberano puoi creare delle interazioni delle faide per il futuro comunque l'ennesima diciamo prova che bucare wyatt è sempre complesso molto difficile a prescindere dal personaggio che abbia sempre un po complesso eh sì adesso come fai comunque rischi di sbagliare perché giustamente come diceva michele il fatto che comunque già da un mese facesse promo sempre uguale magari aveva fatto no ha fatto storciare un po il naso a qualcuno che magari lo voleva vedere un po più un po più centrato e gli ha voluto dare magari questa mini rivalità così giusto per una due settimane per fare fare qualcosa e poi andrà avanti bene perché a me lo fa un fare qualcosa anche lei night se meno meno lo occupano per ore finché in realtà sono quasi tutti occupati i main event o pseudo me ne venta quindi anche magari difficile di incastare qualcuno di giusto ci sta in qualche modo possiamo anche lasciare passare dai da dolta abbiamo avuto un match un six pack challenge hanno chiamato anche un match a 6 valido per la number one contender al titolo femminile match vinto da sciocci e ok non mi è piaciuto moltissimo il match ci può stare sciocci e ci può stare sciocci e comunque di quelli che c'erano nel match boh si ne le due parole per non esserò lei ora che ero dei che nella mia testa quindi va bene così e poi come ho scritto nel banner nel post match nel backstage shot attaccato alla scena best e la settimana prossima si affronteranno luca come scelta di ma io penso che sciocci è la prima di una serie di finare se il menu di più uno per il ronda rose fino a quando probabilmente non torna becchi e la sfida o vince la rambol non lo so ma comunque io vedo a wrestlemania becchi lynch contro ronda house ma credo un po tutti comunque e dall'altra bianca contro charlotte poi dopo vediamo se si sorprendono ma sulla carta saranno questi due match quindi io penso che sciocci l'unica cosa che deve fare sciocci oppure che devono fargli fare sciocci e fargli fare una bella figura per comunque avere ancora possibilità di essere comunque considerata ecco diciamo così e match comunque che si può tranquillamente magari non skippare però c'è non ha detto niente serviva soltanto per se si può seguire anche senza concentrarsi e seguire tutte le azioni esatto niente stavo dicendo che alla fine non mi ricordo neanche spot degni di nota cioè c'è stato uno spot che poteva essere carino ma è stato bocciato quello sul tavolo sì non ho capito se sono scivolate o cosa però è live non è mi sa che non è riuscito a prendere bene racchetto portarla verso il tavolo però non ha lasciato niente di che questo match era proprio soltanto per dare un più una ronda e via magari più interessante quello che è successo dopo nel backstage non so se ne parliamo qua o dopo mi sono attaccato da scritto sciocci attaccato da scena con emma eccetera sì scena è un po più come dire la braccio destro di ronda però è tornato a far quello per adesso si sarà il problema che cerca metà mosse vabbè che vede che adesso giocheranno sul fatto che sono fidanzati anche nella realtà se proprio dobbiamo prendersela prenderemo comunque credo che adesso scena torna essere il braccio destro di ronda ma anche lì poi scena verrà usata come carne da macello per un più uno secondo me ma sì anche perché loro credo che vogliano lottare una contro l'altra quindi le fanno contente fanno un match probabilmente anche brutto ma vediamo dai buonasera settimio e grazie mille per i cinque mesi di abbonamento grazie eddy questo match come da si è imbatto la scelta di avere sciocci si come diciamo che come dicevate voi anch'io avevo dubbio giusto tra sciocci e rachel perché live morgan avendo essendo uscita adesso dalla file da corolla non penso se la rigiocassero subito e le altre due face possibili erano appunto loro due sì sciocci visto che rachel insomma aveva già affrontato ronda adesso hanno voluto provare sciocci che magari è una sfida inedita e il match comunque sì non è stato niente di che c'è stato appunto con la con lo spot sbagliato che mi ha fatto anche ridere perché in teoria lo spot dove essere che live prendeva rachel la schientava sul tavolo e rimanevano tutte e due dopo il colpo lì e per terra invece colpo non è andato segno rachel praticamente non ha subito quasi niente ma mi ha fatto ridere che è rimasta lì sdraiata come se avesse preso un colpo della miseria dopo non è nessuna delle due è più rientrata nel match perché chiaramente lo spot finale dove essere di sciocci e lesi no che dovranno chiudere il match e quindi sì mi ha fatto un po sorridere questo però sarà sicuramente un più uno adesso dovevano dare un avversario a ronda per il sirius visto che lei in arabia non c'era stata quindi ecco per non fare fare per non fare saltare due per vivi di fila è andato adesso un avversario così di transizione per per subvarvo il sirius e poi sì penso anch'io che fino comunque fino alla rumble non ci sarà niente di che per ronda finché poi una becchi che magari ho vinto la rumble comunque rientra per lanciare la sfida e da lì costruiranno la faida per verso il meglio insomma nessuno ha sperato in xia li penso che sia proprio l'ultima ruota della divisione femminile non ti accorgi neanche che è presente a volte ma si impegna un sacco ma ci mancherebbe si allena tantissimo per l'amore di dio servono anche quella però sì sì poi le si le si evas un po l'han tolta dalla naftalina perché era almeno un paio di mesi che non la vedevamo si si evans ormai dopo il suo ritorno insomma in pompa magna poi ha subito sparito esatto adesso non so se ieri hanno anche registrato il tributo alle truppe non so se l'hanno usata non mi ricordo ma comunque la di solito la usano in quelle situazioni perché lei si sia probabilmente che adesso è il problema lì come dice settimo il match con becchi ronda come poi ci sarà ma non è sicuro di vederlo in effetti né anch'io perché è che questa ronda di adesso comunque scalda poco diciamo le fantasie dei fan perché non sta facendo benissimo quindi sì o no magari con becchi ecco potrebbe sicuramente riuscire una cosa migliore soprattutto la fai da di costruzione può venire molto meglio perché becchi chiaramente da dare una mano da quel punto di vista poi sul match in sé vediamo sì 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 andiamo molto con un altro banner a volante tipo velocissimo che ha una domanda e la risposta è no no c'è Enrico Scega ha fatto un promo nel backstage dove è convinto comunque di riuscire a conquistare il titolo intercontinentale arriva Gunter e dice sì ma l'ultima volta c'hai fatto la figura dell'ultimo degli stronzi quindi c'è Tony poi tra l'altro ieri per curiosità sono andato anche a ricercare e l'ha battuto due volte perché hanno fatto il match dove Gunter ha vinto il titolo e poi il tanto è quello che il match carino te lo fa svolazza gira è appunto secondo me settimana prossima con Ali è un match della Madonna può essere un match della Madonna sì 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 però da lì a vincere il torneo no anche no grazie Ricochet ma alla prossima in realtà sono già stato malato tipo un giorno però poi mi è passato fatto una roba velocissima di un giorno e restando sempre in tema World Cup abbiamo avuto l'ultimo match della della serata è veramente stava a pensare a questo come bene bene però è lottato almeno sì non è finito qua almeno l'episodio esatto l'ho lottato sì vabbè è durato un minuto c'è anche con tutto il bene che voglio agendere ma secondo me è tipo l'han chiamato di fretta vieni che ci serve neanche indiano tra virgolette un indiano perché dobbiamo fare la World Cup e allora l'han chiamato su tra l'altro è stato penso il ritorno meno sentito di tutti neanche con un'entrata niente no perché è partito con lui prende che era già vicino alla coppa adesso la vinco faccio disfo e niente è entrato Strowman però la coppa devo dire che è bella eh sì 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 quello sì è ma c'è un'eredità pesante sopra con la coppa no è davvero un modo di dire cioè in realtà io sono molto simpatico il canadese indiano questa cheat no non c'è molto a dire su questo match Strowman è passato e niente era abbastanza scontato comunque almeno il primo turno andasse avanti poi non so se uno che arriva in finale no beh diciamo che io avrei curiosità nel vedere Gunther contro Strowman perché il problema è che avrei una paura tremenda che vinca Strowman perché con Strowman Gunther a differenza degli altri versari non potrebbe diciamo prevalere a livello fisico visto che lui è più grosso però sarebbero delle belle botte insomma sì quello sì ed è l'unica cosa in realtà che puoi far fare al momento a eh sì no è un personaggio che non so bene dove posizionare poi ma è calcutta andare in senso l'unico altro che mi viene in mente che puoi mandare contro Strowman è Carion Cross perché più o meno sono unile in face dello stesso livello sul diciamo come come adesso uso la parola ranking però più o meno no come come status ecco più o meno sono comunque non dico dei main event ancora nessuno dei due però neanche dei dei job insomma sono lì a metà li puoi mandare uno contro l'altro altri incastri anch'io ne vedo pochi onestamente per sindermale invece cosa vedete nel futuro il catering il catering sì ritornare boh dove era prima di questa puntata quindi non lo so è vero perché lui ha vinto anche dei titoli ha vinto anche delle cose poi ha vinto il titolo del mondo ma poi pian piano è scomparsi sempre di più e niente ma guarda io ce lo vedrei bene visto che molti del main roster vanno a nxt potrebbe fare da manager ai due a vire sanga ecco sì o comunque una piccola stable sensata stavolta sì 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 poi non so solo da manager oppure anche come lottatore insomma poi dopo ma lui se non sbaglio fa anche l'attore in qualche serie quindi male che vada anche se lascia o lo licenziano ma comunque un futuro penso che sia l'unico paragone dove vinca stroman ma perché quell'altro proprio fuori dal mondo beh sono simili vabbè tornando serie passando oltre abbiamo avuto come diceva prima merlino sarà logan sarà logan che è arrivato insieme ai rikin readers e hanno attaccato agli tro e legato del fantasma in realtà doveva esserci un match tra zenina vega e bifar cioè almeno la leggera era sul ring e sta avventando poi per fortuna è arrivata sarah logan insieme ai tanti due hanno distrutto tutto ci hanno salvato da questo match che poteva davvero chiudere la puntata e rovinare qualsiasi cosa sono contento per sarah logan perché comunque mi sembra piaciuto in qualche modo anche come come personaggio come lottatrice anche se non è un fenomeno e non non mi sembra il top fisicamente onestamente però quello no però però lei ci sta in questa in questa dinamica a parte che vabbè eric è suo marito però ci sta a pennello lei nel senso anche come look è l'unica cosa che ho trovato questa questo arrivo barra presentazione un po' troppo nel senso che sono molto stereotipati loro mi sembra e vediamo loro loro due eric e ivar sono un signor tag team che in wwe hanno raccolto molto poco perlomeno nel main roster adesso ma nxt hanno qualcosa in più hanno fatto e vorrei una gestione buona di loro nonostante questa gimmick che a me non fa impazzire quindi vuoi una cosa meglio di quando erano contro i ninja e quelle cose vedi beh sì ma non che ci voglia molto per l'amore di dio però poi io risi anche a quei segmenti perché non è che che erano neanche divertenti però erano robe di vince mcmahon comunque ce n'è poco da dire e no io sono contento comunque del ritorno ai viking raiders perché li ho sempre apprezzati molto e vediamo adesso se riescono a gestirli bene se riescono fargli fare qualcosa di utile o se si perdono poi nei meandri del booking e della divisione eddi te come lo vedi questo ritorno e diciamo che ci sono tanti 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 team diciamo a smackdown sono veramente tanti quindi alcuni sono anche spariti vedi lotarios o la maximum main model quindi sono veramente tanti sì viking raiders adesso sono il quindi si aggiungeranno da quel lato lì e quindi quelli con cui possono andare contro si adesso faranno magari una file iniziale contro gli throw vediamo se anche il legato magari in un match a tre coppie ecco possono fare e poi poi non saprei perché poi i campioni sono gli users che sono il quindi non possono andare a sfidarli o anche lì se vuoi fargli sfidare devi aggiungere magari dei face fare un ulteriore match a tre coppie però sì vediamo come come li useranno soprattutto se poi lotterà anche sarah lo wogan magari ecco contro gli throw potrebbe starci un tre misto anche contro il legato se ci usi zelina evidentemente sì secondo me hanno scelto questi queste due staple per quello sì 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 adesso che ci penso effettivamente potrebbero far così allora però c'è da dire peccato che non abbiamo visto ragazzi dovevamo vedere zelina contro bfeb prima dell'introduzione di io volevo vedere cosa ci avrebbero fatto fatto vedere in questo match però purtroppo non è partito niente la critica che mi sento di fare che è già il secondo arrivo di una stable identico cioè due identici di fila prima legato del fantasma nello stesso modo stavolta 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 viking raiders penso si chiameranno comunque viking raiders e nello stesso modo ecco magari potremmo farlo un po in modo diverso però sì sempre con gli throw che le prendono il prossimo il prossimo tag team meno il legato del fantasma e piano piano si costruisce sempre di più gli throw che erano partiti sembravano essere partiti forti ma poi adesso no adesso li usano per i nuovi team che esordiscono li usano come carne da macello tra questi tre stable secondo me gli throw sono anche quelli meno importanti meno come dire meno pronti anche insomma più acerbi ecco rispetto agli altri sì 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 anche sì sì perché manca comunque un leader gli throw cioè quello lì è fondamentale sì almeno sarà logan rispetto ad altre due qualcosa sa fare non sapeva sapeva perché adesso cos'è un po di anni che non lotto un paio d'anni e almeno un paio d'anni sì non penso abbia dimenticato a questa domanda alla fine da quando è arrivato tipo l'age c'è c'è stata un po tipo tutte le settimane se diciamo che triple h magari e meno meno stereotipi meno queste cose un po più da da vince secondo me punta di più su magari sul lottato e sul senso nelle storie però alla fine sì non c'è stato chissà che cambiamento trascendentale sono un po più scorrevoli da vedere gli show ma perché appunto certe decisioni non sono dell'ultimo secondo sono comunque secondo me c'è una una narrativa un po più più seria un po più scorrevole tutto qua tranne l'ultima puntata di rò quella lì è stata veramente una puntata scritta da miss è un po in realtà un paio di settimane che ero un po così così anche un po tante decisioni anche magari a crown jewel tipo ma sì ho qualche scivolone da fatto però almeno sembra più più ragionato sì esatto esatto poi è un po più di cura sì però più o meno come storyline insomma si è allineato a vince magari sì c'è qualche match magari punta un po più sull'ottato su qualche match oddio io ho anche lì in certi segmenti di vince mcmahon mi cringiavo totalmente veramente almeno adesso non più quello però ci sono insomma dei lati un po discutibili sì la ragione cliff esatto questa è una cosa secondo me è quelli sì imbarazzanti cioè praticamente se non sbaglio a crown jewel su ricco aiutatemi 7 8 match erano 6 7 comunque vabbè tranne due forse sono tutti finiti con interferenze sporchi ma a row ogni settimana è praticamente la stessa roba quindi diciamo che vince mcmahon abusava della squalifica anche senza senso invece triple h abusa di queste interferenze che a volte sono anche sensate però se ne fai troppo abusi e diventa stomachevole sì sì a me perché sembra puntata ogni match finisce anche se in modo diverso comunque sembra uguale si dà un po da fastidio mi ricordo una puntata di rock con tutti gli incontri finiti in qualche modo per interferenza come proprio messi deve abusarne e quello un po sì perché comunque devi tenere le faide anche aperte devi sì quello ci sta però magari equilibrarli un po perché ogni match dietro l'altro quasi a volte anche parlo più che altro nelle puntate settimanali quindi hai sempre questa interferenza che per l'amore di via non è che un'interferenza a caso perché sempre di qualche persona che c'entra con la storia eccetera però ecco è un po' un po' rindondante ecco decisamente sì hanno annunciato i due match del torneo 1 l'abbiamo già detto prima c'è un mustafa lì contro il cosce ho scritto ricco e aspetta che lo studio ricottina vabbè poi avrete capito lo stesso sì l'altro invece è bucci contro semi sei un altro match che può venire secondo me parecchio bene quindi sono comunque curioso di questi due perché sono un po diversi dai soliti intrecci che fanno quindi possono venire due ottimi match vediamo poi quanto minutaggio gli danno però sulla carta sembra meritare poi vediamo arriviamo poi a il segmento finale che poi fa anche da quindi main event anche se non è lottato lo chiameremo comunque main event dove c'è stato il promo tra virgolette di roman reigns che in realtà non ha detto niente perché ha lasciato il microfono a poleman che ha fatto la sua solita solito spolocchio lunghissimo inutile perché quando roman reigns ha ripreso in mano il microfono sono arrivati bone in both sì tutti e tre partite alla lista si sono menati qua si sono menati là è arrivato anche drumeck in tire e quindi mi sono detto ma potrebbe essere un indizio per wargames direi direi di sì penso che allora se non sbaglio hanno confermato che però sarà cinque contro cinque sì la bloodline c'è perché comunque sono cinque non avrei mai detto comunque che roman reigns lottasse nel wargames però a quanto pare ci sarà e dall'altra ne manca uno mi sento di dire che sono quasi convinto al cento per cento che sia owens il quinto un po perché comunque con zain ha sempre il senso perché comunque si sono anche in segmenti qualche settimana fa si sono sempre trovati owens gli diceva qualcosa eccetera quindi penso che alla fine sarà lui e lui è fuori da un po di settimane anche per farlo tornare un po sorpresa secondo me fuori anche da altre storie quindi secondo me arriverà lui e poi lui è un veterano dei wargames insomma sa farlo quindi può mettere qualità ancora più ulteriore e sì per me sarà un bel wargames sono contento pensavo pensavo peggio onestamente fabbri dice l'altro loro amico è miro vediamo vediamo mentre chi dice da tutte le cinture pittane è fantastico però ne parlavamo anche settimane scorse pidan meno poi sento opinione mia e mi pare anche che fabbri aveva detto una cosa simile che lui è molto carente nella parte microfono nella parte carisma e quelle lì dopo vabbè in ring chi lo discute è un pazzo insomma sì sì no beh quello sicuramente però si gli manca tutta la parte extra ring che però è fondamentale in qualche modo quindi però io lo vedo comunque nella sua dimensione adesso lo vedo bene in questa stable da quando ha preso comunque la piega che ha voluto più triple h rispetto a miss mcmahon sì anche io ce lo vedo più in tech team comunque che il solitario però perlomeno nei miei roster sì sì e eddy cosa mi dici di questo wargames? guarda un po' mi ha sorpreso che si sia unito drew perché visto che c'erano appunto i new day in fida con gli usos ero quasi sicuro che avrebbero fatto i cinque face sarebbero stati i tre dei brawling brutes e i due dei new day e invece no evidentemente il new day ha detto no abbiamo già visto fin troppi fin troppi match tra new day e gli usos quindi hanno voluti togliere diciamo dall'equazione quindi hanno aggiunto drew e a questo punto sì magari giungeranno owens e devo dire che effettivamente sarà una bella lotta perché comunque i cinque di qua e cinque di là è un match equilibrato ecco sulla carta non saprei in questo momento chi potrebbe vincere onestamente io ho una paura perché io continuo a trovare strano che roma range faccia wargames e non so perché perché non lo so a parte che secondo me non ce lo vedo in questa stipulazione io non ce lo vedo prima roba perché già non ce lo vedo quasi in un match normale quindi e seconda cosa non vorrei che mettessero in mezzo cross al suo posto per la cosa di drew mckinth è probabilmente un'ipotesi molto fantasiosa più che altro però sai cross non si è visto mi sembra un po' strano che sia finita già con drew dopo comunque un 1 a 1 così vediamo magari potrebbe interferire direttamente nel match forse però non lo so perché roma range è vero survivor series è un big four ancora anche se magari ha meno importanza di anni fa però alla fine roma range ha una schedule sembra più più ristretta quindi è quello un po' quindi sembrava strano e poi magari dopo le series fino a gennaio sparisce si può essere anche perché mi sembra che non c'è neanche un pay per view a dicembre no 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 non c'è niente però nel wargames se non sbaglio comunque il primo che viene schienato poi perde tutto il team quindi potrei cioè comunque potresti anche proteggere roman facendo schienare un mero qualsiasi della bloodline lì probabilmente schienano zain e dopo lì inizia un po' si se perde la bloodline si magari fai un'incompressione tra zain e jay uso di nuovo e da lì poi si può far partire lo split tra loro se nella mia testa dovrebbero vincere diciamo i phase si tecnicamente si perché è l'unico momento in cui puoi far perdere la bloodline senza fargli perdere i titoli non c'è tra virgolette nulla in paglio quindi potresti far schienare o un zain che comunque non è un campione quindi avresti tutto il modo di proteggere sia roman che jay uso senza ecco che non verrebbero toccati da un'eventuale sconfitta credo che dopo useranno anche i shimus come avversario di roman almeno per un mese sì credo magari shimus appunto si prende lo schienamento non dico su roman ma su uno dei della bloodline sì no su roman secondo me no 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 su roman no sì probabile probabile e niente siamo arrivati alla fine di questa puntata di smackdown è stata una puntata strana per alcune cose però luce e ombre è stata abbastanza scoprevole comunque quindi va bene il bello di smackdown è che comunque durando un'ora in meno rispetto a un'ora è più rapida più anche da vedere da seguire meno stancante ci sono meno cose inutili più digeribile diciamo così sì e o ha il problema di avere diverse cose che tipo boh cioè ok passano ma te le dimentichi quasi all'istante quindi va bene il smackdown invece ti rimane tutto più concentrato almeno dal mio punto di vista è meglio l'ho sempre apprezzato di più anche per quello nonostante va bene abbia avuto dei periodi non troppo belli anche smettare proprio ci sta e quindi niente grazie mille a Luca grazie a voi grazie alla chat grazie a Eddie grazie a voi e a chi ci ha seguito durante la live grazie mille a quelli che ci hanno seguito qua su Twitch e grazie a quelli che ci seguiranno poi su YouTube vi ricordo di lasciare un like ed iscrivervi al canale dare un'occhiata un po' a tutti i video che carichiamo e poi di passare anche su Twitch se mi in live quasi tutte le sere ci trovate alle 9 e mezza il canale è il lato viola del ring quindi vi aspettiamo anche qua grazie mille e alla prossima buona serata grazie a tutti